Che cos'è SPID? Come si attiva? Come si utilizza? L'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rimini può accompagnarti sia nel comprendere l'utilizzo del sistema pubblico di identità digitale, sia nell'attivarlo mediante registrazione online sul portale, incluso anche il passaggio di riconoscimento allo sportello che è necessario per l'attivazione delle credenziali. Lo SPID è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, che facilita la fruizione dei servizi online. Puoi utilizzare SPID da qualsiasi dispositivo, computer, tablet e smartphone. Ogni volta che su un sito o su un'app di servizi trovi il pulsante Entra con SPID. SPID può essere attivato se hai compiuto il diciottesimo anno di età e sono richiesti un documento di riconoscimento rilasciato da un ente italiano, la tessera sanitaria o codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare. Puoi registrarti da solo sul sito id.lepita.it e scegliere la modalità di riconoscimento che ti fa più comodo. Oppure puoi chiedere aiuto direttamente all'ufficio relazione con il pubblico, previo appuntamento. Contatta l'ufficio al numero 0541 70 4704 o recati allo sportello in piazza Cavour 29, dall'unidì al sabato dalle 9 alle 13 o nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 17. Attiva la tua identità digitale SPID. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.